Uno scoop straordinario per la Val Cantuna, in esclusiva il nuovo assessore della cultura del comune di Belluno, l'architetto al pago Claudio Novello. Un commento veloce... Il commento veloce è che... Per il sito della Val Cantuna, di Arsidi Ponte nelle Alpe. Il commento veloce è che non sono proprio ancora assessore perché diventerò ufficialmente alla prima seduta del Consiglio Comunale. Che però io ho accettato con la pancia e non con la testa, speriamo poi che la testa funzioni e che supporti la pancia. Comunque fonti autorevoli garantiranno un successo per questo assessorato, di cui avrà beneficio tutto il comune di Belluno. Speriamo proprio assessorato con un soldi zero, ma... Questo va benissimo, bisogna trovare gli spedienti per tirarli fuori. E questo è... su questa cosa credo di essere brava. Perfetto. Complimenti e tanti auguri e buon lavoro. Grazie. E da la Val Cantuna è tutto. Grazie.